Benvenuti nel futuro, un'epoca dove i diritti umani vengono messi a film, e le tecnologie del futuro hanno cambiato per sempre, il mondo e la vita nei suoi anni. A momento per sempre un'istinzione sociale tra i quali gli umani diversi come un livello, di diversa religione, nazionalità, sesso e appartenente per altri. A momento in un momento per l'aspetto di un amato immagino. Questa è il reto per i diritti, dove le valide discriminazioni di ogni genere sono quasi che hanno avuto i diritti, dove le valide dominare in il mondo? Il mondo è il reto per l'aspetto del mondo. Il mondo è il reto per l'aspetto che face ogni visione l'attento, e così sei che non è vero, maggiore ogni tanto, ma è vero per l'aspetto, non è vero. Perchè hai mandato Kato sul pianeta Egaco? A causa tua, la battaglia è stata sospesa. Beh, non so se l'improvviso. Ma io non volevo che muovisse. Voglio soltanto salvare da quel conservatore, capisci? Ti hai fatto bene, solo che mi è sembrato che quel conservatore lo stessi inseguendo. Tu sai chi è Egaco? Non lo so, ma penso che... Ehi! Ragazzi, ci sono lovità, venite presto! Ciao CyberCancer, amico mio. Cos'hai da lì? Il vostro amico è qui con me. Solo che è con qualcuno. Guardate un poco. Ah, mio Dio! Quale è un altro baby? Come è stato possibile uscire le dalle? Oh mio Dio! Ok signori, preparatemi per il piaggio. Voltori al massimo! Ciao! 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 Ciao!